Salve, mi rivolgo alle persone di buona volontà che hanno capito e che vogliono migliorare il mondo. Non scoraggiatevi, non crediate alla prospettiva anichilista che vi prospetta una realtà diveniente isolata dalla vostra coscienza, isolata dai vostri stati interiori. Una realtà frammentaria, regolata dal caso e dalla contingenza nella maggior parte delle situazioni. Non crediate a questo modello, è la prospettiva più irrazionale, dogmatica, inconsistente che sia mai stata realizzata. Vi invito a guardare i video principali del mio canale. E' ad approfondire la teoresi severiniana perché è l'apparire di un contenuto che smonta completamente quella concezione. Ne mostra la totale irrazionalità, dogmaticità, infondatezza. E mostra perché è necessario che tutto sia eterno e quindi tutto sia congiunto in modo necessario. Che niente sia casuale, che tutto sia direzionato verso il miglioramento progressivo, ovvero il miglioramento che consiste nel togliere gli aspetti contraddittori della realtà. La contraddizione C. Noi siamo la totalità infinita che sperimenta se stessa da una prospettiva eterna ma finita. Questa è la nostra coscienza. E' il luogo dell'apparire del mondo. Chiaro che dette così queste cose possono sembrare esse dogmatiche. Ma non mi limito a dire questo adesso in questa sede, in questo video. Ci sono dei video dove ho spiegato e mostrato quel che sto dicendo ed è tutto stato giustificato. Vi invito a guardare quel video, questi video, a confrontarvi con questa prospettiva. E' a mantenere quindi la fiducia che si possa migliorare il mondo, però prendendo consapevolezza di cosa sia questa realtà. Perché è l'unico modo. Altrimenti la buona volontà può essere incanalata male. Se infatti la struttura della realtà fosse quella che sta emergendo da un certo tipo di teoresi, allora l'unico modo per manifestare uno scenario migliore sarebbe proprio quello di prendere coscienza della relazione necessaria e non casuale tra gli stati interiori e gli stati esteriori del mondo. E quindi praticare meditazione, praticare un percorso meditativo per l'illuminazione, da poi consolidare nella vita quotidiana. E tutto poi seguirà da quel tipo di condizione interiore. Non dico che sia facile, non dico che sia immediato, però può dare dei risultati, può davvero essere la base per arrivare a un mondo assai migliore di questo. Bene, io mi limito a quel che ho detto. Sicuramente chi conosce un po' la teoresi severiniana, ascoltando questo video, ma anche chi la conosce approfonditamente, sentendo questo video potrebbe storcere il naso e pensare che io stia alterando questo contenuto dicendo cose rispetto ad esso contrarie. Ma non è così, perché quel che dico è anche proprio in accordo con quello che riguarda lo sviluppo nella nostra dimensione finita della Terra isolata. Cioè, a un certo punto dovrà apparire il paradiso della tecnica e poi il suo oltrepassamento. Siccome non è detto che debba accadere tutto ciò in un tempo lungo, può darsi che ci siamo già in questa fase di passaggio. La tecnica sta progredendo, tra poco ci potremo trovare nel paradiso della tecnica e poi verso il suo oltrepassamento, che vuol dire accogliere il contenuto della verità del destino a livello ordinario. E quindi l'apparire di una società conforme a quel tipo di coscienza. Ricordiamo infatti che la società e il mondo, per come sono impostati, sono fondati su presupposti teosalmente nichilistici. E si considera nella prospettiva comune e ordinaria del mondo a un livello sottointeso, l'essere come non essere, come nulla. Gli enti come non essere. Non direttamente, ma è l'idea del divenire come trasformazione di una cosa in altro, di uno stato, di una configurazione del mondo in un'altra, che porta implicitamente poi a dover considerare, a ritenere fondamentalmente tutte le cose coincidenti con il non essere. Perché nel divenire sarebbe appunto l'essere degli enti, il loro essere qualcosa a smettere di essere. E sarebbe il non essere di qualcosa a identificarsi, quindi a prodursi. Anche se in minima parte, anche se ciò fosse in minima parte, però di fatto riguarderebbe comunque delle situazioni che risulterebbero essere diffuse in tutta la realtà, perché la realtà sarebbe fatta di una infinità di determinazioni, appunto oscillanti, tra l'essere e il non essere, nella prospettiva nichilista. Va bene, io mi fermo qui. Vi invito ad approfondire i video, perché il discorso è davvero rilevante, molto più complesso di quello che può apparire all'inizio, e meritevole di essere ascoltato. Grazie.